Andiamo! Lo so che Bullwart ha detto che non era un parco divertimenti, ma sembra proprio divertente! Ok, saltiamo sul nastro trasportatore che ci porterà nell'altra stanza! Allora, altra stanza! Stiamo arrivando! Bingo! Perché stai andando da quella parte? Non lo so! Tu perché vai da quell'altra? Dove sei andato? Salta! Salta, Rally! Salta! Ti ho preso! Grazie! Ma figurati, Bullwart ha detto che questa si chiama stanza imballaggio! Che succede nella stanza imballaggio? Questo! Precipito! Ora so come si sente una tartaruga sotto sopra! Questo Pluriball è così stretto che non si riesce nemmeno a camminare! Ma in questo modo non arriveremo né alla fine dell'arcobaleno né alla pentola d'oro per Bob! Che è la nostra missione! Allora dobbiamo cercare di liberarci! E sa esattamente come fare! Ehi, Pluriball! Intrappolati fra tutte le bolle Liberarsi i folle dentro al Pluriball! Dimenandomi! Sto cercando di fuggire controccendomi! Ehi, Pluriball! Se tu scoppi le mie con le tampe Io scoppierò le tue Ad ogni bolla che scoppia L'imballo si allenta Diamoci da fare su tenta! Eccoci! Pop! Pop! È scoppiata! Pop! Pop! Divertente! Pop! Pop! È scoppiata! Pop! Pop! Basta o niente! Dentro al Pluriball! Forza che ce la fai! Bucandole ormai siamo fuori dai guai! Se un'altra volta ci capiterà Butteremo tutto con rapidità! Ce l'abbiamo fatta, Rolly! Ce l'abbiamo fatta! Sì, vorrei che ci fossero tante altre bolle da far scoppiare! Potrei farlo per tutto il giorno! Rolly, lo hai fatto apposta? Può darsi! Beh, timo che dovremo farle scoppiare tutte! Sì! Tutti i pavimenti dovrebbero essere fatti di bolle! Così camminare sarebbe molto più divertente! Rolly, aspetta! Il cane da guardia è qui fuori! Se sente scoppiare le bolle ci scoprirà e salterà la missione! Ma come facciamo? Dobbiamo arrivare in fondo al corridoio senza far scoppiare le bolle! Dovremo camminare in mezzo alle bolle! Ok, Rolly! Tocca a te! Ma devi fare esattamente come ho fatto io! Non sarà difficile! Ti ho osservato bene, so dove mettere le zampe! Ehi, una mosca! Rolly, no! Ora ti prendo, mosca svolazzante! Sei stato strepitoso! Hai evitato tutte le bolle! Ma non sono riuscito a prendere la mosca! Dimentica la mosca! Siamo quasi arrivati alla pentola d'oro! Un giorno andrò in missione a cercare una pentola di mosche! Abbiamo attraversato tutta la fabbrica e ora che siamo sul retro dovremmo riuscire a vedere... Oh! Capi, dog, valsa! Su Disney Junior!